Ho provato all'evento indie The Mix Rise and Shine, un gioco sviluppato da un team spagnolo che è un po' metal slug, visuale di lato, scorrimento orizzontale, grafica 2D cartonesca molto bella tra l'altro, alta risoluzione, sembra proprio di vedere un cartone animato non ci sono pixeloni da nessuna parte, ed è sì uno spara tutto la metal slug ma in realtà è quasi più un puzzle game nel senso che tu vai in giro con questo personaggino, tra l'altro il protagonista è un bambino che si chiama Rise e Shine è la pistola che si porta dietro e che parla, ha gli occhi e quello che fa è andare in giro, affrontare nemici, sparare però in realtà l'azione non è particolarmente frenetica perché è molto incentrata su le caratteristiche del sistema di gioco c'è un sistema di coperture, ti puoi nascondere, possono distruggertele e quindi già c'è questo, ti nascondi, spari ai nemici che arrivano la pistola che hai, classico twin stick, direzioni, spari e abbatti ma puoi attivare un sistema teleguidato che ti permette di sparare il colpo e controllarlo proprio tu in giro con la levetta analogica ma solo all'interno del raggio d'azione, diciamo, del telecomando mentre se esci dal raggio d'azione perdi il controllo e il proiettile è andato ma da dentro del raggio d'azione puoi spararlo e lanciarlo sulla distanza e già questa cosa serve in molti casi perché magari il boss che stai affrontando ha il punto debole nascosto alle spalle quindi tu spari il proiettile, lo controlli teleguidato e riesci a farlo arrivare ma serve anche per risolvere degli enigmi tipo andare a trovare dentro un condotto l'interruttore per aprire la porta in più ci sono diversi tipi di proiettili, quelli esplosivi, quelli elettrici e ovviamente anche questi hanno effetti diversi sui nemici, sui meccanismi eccetera e ogni tipo di proiettile può essere utilizzato normalmente o in versione teleguidata quindi abbastanza complesso, ho finito il primo livello e sono arrivato a sconfiggere il primo boss non senza tirare svariate imprecazioni ma era proprio figo perché era un mix di abilità manuale capacità di schivare le cose ma soprattutto tantissimo capacità di capire come schivarle come difenderti dai colpi, come arrivare a colpire il boss molto molto bello, promettentissimo, insomma se piace il genere insomma una lettura un po' particolare del genere alla Meta Slug perché è quasi più riflessiva che d'azione pura Rise and Shine